Ed eccoci ancora insieme per la terza parte dell'apertura del box di X-Smeraldo. Al momento abbiamo trovato solo una X. Speriamo di rifarci con gli ultimi pacchetti. Allora, Grampig, Laudred, Raidon, Multienergie Olografico, Phibas, Larvitar, Wisemur, Meditite e Phibas. Scegliamolo un po' fuori. E abbiamo Plasol, Pokénav, Seviper, Cemegiu Olografico, Raiorn, Larvitar, Pikachu, Electrike e Baltoy. Raiquasa. Vediamo un po'. Raiquasa non tradisce, ragazzi, due X, nei pacchetti di Raiquasa. Doppio recupero totale, con Basken e Altaria in X. Energia a Fuoco, Meditite, Mudkip, Galpin, Snorant e Duskull. Ragazzi, due X, tutti e due nei pacchetti di Raiquasa. Quindi, il mio Pokémon preferito sta dando i suoi frutti. Bacca Prugna, con questa ci mando a ci molte persone, specialmente gli invidiosi. Chirlia, Manetrick, Blasiche e Nolografico, Zigzagoon, Cacnea, Zrumish, Doduo e Lavdisk. Voi lo sapete le prugne cosa fanno? Sì, per chi sono consigliate. Bacca Arancia, Electrode, Nospas, Ricerca in Rete di Lanet Olografico, Suablu, Electraic, Tailov, Namel e Meditite. Togliamo gli ultimi pacchetti. E abbiamo Lumais, Volbit, Manetrickolo, Bellissima. Energia, Voltorb, Fibas, Torchic, Spoink e Namel. Bacca Arancia, Grampig, Seviper, Makuita Olografico, Picchu, Snorant, Makuita, Bullpix e Baltoi. Svalot, Brellum, Gardevoirolo, Bellissima anche questa. Namel Olografico, Zrumish, Makuita, Gulpin, Suablu e Lavdisk. Ultimo pacchetto di Rayquaza, Oex qui o basta, quindi io mi fermo a due. E dai ragazzi, c'è tre ex, tre nei pacchetti di Rayquaza. Dodrio, Grampig e Dasklopsy ex, c'è una delle mie preferite. Guarda, bellissima. E' spettacolare questo ex. Srumisholografico, Spoink, Cacnea, Namel, Tailoff, Doduo. Addestramento di Lino, Camerupt, Energy Oscurità, Energy Acqua, Trico, Raiorn, Zingzagon, Daskol e Larvitar. Ragazzi, ultimo pacchetto di questo box. Ecco, si è strappato, quindi non è un buon segno. E' l'unico pacchetto che si è strappato del box, l'ultimo. Benissimo ragazzi, finisce qui anche l'apertura del box di Esmeraldo. Ringraziamo per le tre ex il mio mitico, magico, Rayquaza. E vi ringrazio sempre tutti per le iscrizioni. Vi ringrazio, vi ringrazio tantissimo. Continuate così. E vi aspetto per nuove aperture di Poké Shiny. Ciao ciao! Ciao! Grazie.